Dando Varese viene da pensare anche alla passata stagione o è cancellata? Ma no, credo che si fatica a cancellare quello che ci hanno portato via, soprattutto nella gara di ritorno. Abbiamo giocato col Varese due gare di campionato e due play-off, abbiamo fatto bene, fatto male, forse la partita sbagliata, tra virgolette, poi siamo passati a contestare due palli in attiva l'andata dei play-off, però il ritorno per mezz'ora che abbiamo dominato, si ha di vantaggio che l'episodio chiave, senza stare qui a ricordarlo, è stato clamoroso contro i nostri colori, chiaro un po' di rabbia rimane, però domani è un'altra partita. Il Verona ha più punti dell'anno scorso alla stessa giornata di oggi? Sì, abbiamo più punti, siamo cresciuti più avanti dello scorso anno, abbiamo cambiato tanto, tanti giocatori non li abbiamo mai potuti neanche utilizzare, però sono contento della frenesia e dell'ansia di vincere tutte le partite, che ripeto, oggi bisognerebbe fare un giro, l'ho detto prima, a Milano, Roma o squadre che erano in testa in Serie A, sono squadre che sono, per dire che ogni partita è una battaglia, una lotta, noi forse abbiamo concesso qualcosa nel secondo tempo, ma è frutto così, proprio di situazioni momentanee, anche perché c'era nessun tipo di pericolo, però abbiamo fatto per un tempo una buonissima partita contro una buona squadra ed è andata così.